Buongiorno a tutti, non so se ci sono, se mi vedete e se mi sentite, spero di sì. Io vi do il benvenuto, quindi benvenute e benvenuti e so che ci sono persone con cui collaboriamo abitualmente, quindi le ringrazio particolarmente per il contributo veramente rilevante che danno alla costruzione dei dati che vengono presentati, ma ringrazio anche chi è qui per interesse sui dati senza essere coinvolto direttamente nel processo che li produce e li valorizzano. E forse non tutti conoscono l'elenco degli iscritti, forse c'è anche qualcuno che non lavora con la statistica ma che desidera semplicemente saperne un pochino di più. E quindi dopo è venuto a tutti, io sono Lina Camporese, mi occupo di coordinare l'attività nelle sedi regionali Istat di Venezia e Trieste e quindi oggi diciamo vi presenterò i relatori e darò loro la parola perché vi illustrino i dati territoriali. Dopodiché alla fine avremo anche una sessione di domande e risposte in cui sarò io appunto che porrò le domande raccolte da voi in chat e alcune una selezione ovviamente e poi i relatori risponderanno. Condivido con voi qualche slide di apertura. Ecco, ora le dovreste vedere. E quindi partiamo con la sessione 1 che parlerà di Friuli, Venezia e Giulia, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano. Vediamo un po' il territorio sulla carta geografica, il territorio di cui stiamo parlando che copre il 13% della superficie italiana e ospita 7 milioni e 163 mila circa residenti. Questi sono i dati 2019 che troverete nel sito del censimento di popolazione. In totale rappresentiamo diciamo il 12% della popolazione italiana. Questa slide molto colorata in realtà è un mio modo di invitarvi ad andare a esplorare quel sito perché è veramente ricchissimo. A me piacciono, io ho la passione per le mappe, mi piace andare a esplorare i dati rappresentati sul territorio. Me ne presento uno un po' particolare. Sono i comuni con il massimo di popolazione in un arco temporale dal 51 al 2019. Come si legge, i comuni verdi sono quelli che hanno avuto il loro massimo di popolazione nel 51. E via via che passiamo verso i colori che vanno verso il viola chiaro e poi il viola scuro, abbiamo i comuni che hanno il massimo di popolazione invece negli anni più recenti. Questa immagine da sola ci dà come in un arco di circa 70 anni diciamo il respiro della popolazione nel territorio perché se voi vedete c'è come un concentrarsi dalle zone verdi verso alcune fasce ben delineate nel nostro territorio. Sono le fasce centrali della pianura, poi c'è una fascia diagonale della montagna e se vediamo, non riguarda solo il territorio di cui ci occupiamo in questa sessione, ma riguarda anche tutta la pianura, la parte lombarda e vediamo anche nella parte miglia romagna. C'è una fascia diagonale con al centro in giallo la provincia di Bologna, scusate il comune di Bologna. Il comune di Bologna è giallo come altri comuni capoluoghi, vedete Venezia, Verona, Brescia, Milano e così via. Che cosa significa? Questi sono comuni che hanno avuto loro esploati il numero di popolazione intorno agli anni 70. E quindi è come se questo respiro di movimento della popolazione nel territorio avesse come due ondate. Un'ondata generale che accorpa la popolazione in fasce ben definite di territorio, ma c'è anche un'ondata che la porta un po' fuori di recente dai comuni capoluogo verso magari le periferie o le cinture. Questo era solo un esempio per farvi vedere come anche dei dati molto semplici di popolazione, che sono il numero di abitanti per anno e per comune, ci possano raccontare delle dinamiche sociali e territoriali molto complesse. Il programma di oggi, allora abbiamo tre interventi di ricercatori Istat che ci descriveranno le caratteristiche principali della popolazione per quanto riguarda la struttura standard, sesso, età, cittadinanza, titolo di studio e condizione professionale, che sono due caratteristiche più sociali, diciamo. e poi avremo una presentazione invece che ci allontanerà un po' dalla geografia amministrativa classica e ci parlerà delle aree interne che sono già state introdotte nella sessione plenaria, vedremo in concreto come sono definite e che dati ci presentano. Concludiamo con una presentazione invece del vicepresidente Dell'USCI che quindi ci darà uno sguardo esterno all'Istat e ci parlerà di come questi dati potranno essere, possono essere utilizzati per la governance del territorio. Tutte le presentazioni, le prime tre Istat, andranno per tema e poi all'interno di ciascun tema verranno approfonditi i dati a livello territoriale facendo un confronto con il dato nazionale. Questo per darti un'idea di che cosa succederà insomma in questo tempo che passeremo insieme. E ora do la parola ai relatori, interrompo la condivisione e quindi vi presento Elena Marchesic che adesso dovrebbe fra poco comparire assieme a me all'idea, forse l'avete già. Elena appunto ci descriverà le caratteristiche strutturali della popolazione residente per sesso, età e cittadinanza. Grazie Elena. Buongiorno a tutti, penso che mi vediate e mi sentite. Adesso faccio partire la mia presentazione. Come anticipato Darina, che ringrazio, la mia presentazione verterà a illustrare le caratteristiche strutturali della popolazione residente dei quattro territori considerati distinte per sesso, età e cittadinanza. Partiamo quindi da quanti siamo. Al 31 dicembre 2019, data di riferimento del censimento 2019, la popolazione delle province di Bolzano e di Trento si attestava su importi compresi fra i 530.000 e i 550.000 abitanti. La popolazione del Friuli Venezia Giulia ammonta a poco più del doppio, mentre a sua volta la popolazione del Veneto è circa quattro volte tanto la popolazione del Friuli Venezia Giulia. Parliamo quindi di territori di dimensioni parecchio diverse. In termini di variazione rispetto al 2011, la popolazione è aumentata in misura assoluta in tre dei territori considerati, mentre è diminuita in Friuli Venezia Giulia. In termini assoluti, la popolazione è aumentata su valori compresi fra i 20.000 e i 30.000 residenti, quindi con differenze non particolarmente significative, ma che diventano rilevanti differenze qualora si vada ad analizzare la variazione in termini relativi. Infatti, nel caso del Veneto, la popolazione... Scusate, io scusate, devo interrompervi e chiedervi scusa, perché io non riesco a vedere tutte le mie slide a schermo pieno. C'è il riquadro dei relatori che mi impedisce di vedere totalmente la slide. Chiedo alla regia se può darmi una mano. Ok, vi ringrazio. Proseguo e chiedo scusa. Dicevo quindi che la popolazione è aumentata su valori compresi fra i 20.000 e i 30.000 abitanti nei primi tre territori considerati, mentre è diminuita in Friuli Venezia Giulia. E' aumentata però con velocità diverse. Nella provincia di Bolzano l'incremento medioannuo è stato del 6,8 per mille. Vale a dire che come se si fossero aggiunti alla popolazione circa sette individui ogni mille abitanti per ogni anno del periodo considerato. Nella provincia di Trento l'aumento è stato del 4,8 per mille, mentre in Veneto l'incremento è veramente molto debole, quindi la popolazione è grosso modo stazionaria rispetto al 2011, con un aumento dello 0,6 per mille. In Friuli Venezia Giulia, appunto come detto prima, la popolazione è diminuita ed è scesa del 1,4 per mille. Andando ad analizzare la dimensione demografica dei comuni, vediamo come la classe più rappresentata è quella dei comuni di popolazione compresa fra i mille e i cinquemila abitanti, le cui percentuali sono evidenziate nel grafico qua illustrato. Se a questa fascia di popolazione andiamo ad aggiungere quella dei comuni più piccoli che arrivano fino a mille abitanti, vediamo come nelle province di Bolzano e di Trento l'insieme di questi comuni supera più dell'80% del totale dei comuni, mentre in Friuli Venezia Giulia arriviamo poco sopra al 70%, più eterogenea invece la distribuzione dei comuni per classe di ampiezza demografica nella regione Veneto. In termini di popolazione residente vi sono a livello comunale ampie differenze nella dimensione demografica. I comuni più piccoli hanno in ciascun territorio una popolazione compresa fra i 100 e i 200 abitanti. Il più piccolo di tutto il Triveneto è il comune di Drenchia con una popolazione di 102 abitanti, mentre tra i comuni più grandi, in tre casi su quattro, il comune demograficamente più grande, più popoloso, coincide con il comune capoluogo di provincia o di regione. Unica eccezione il caso del Veneto, in cui il comune più popoloso non è il comune di Venezia capoluogo di regione, bensì il comune di Verona con una popolazione di circa 260.000 abitanti. In termini di distribuzione territoriale, la provincia autonoma di Bolzano conta 116 comuni, quella di Trento 175, la regione Friuli Venezia Giulia è frazionata su 215 comuni, ben più numerosi i comuni della regione Veneto che superano i 500. Dal 1951, primo censimento dopo il dopoguerra, al 2019, la popolazione è aumentata nelle province autonome di Bolzano e di Trento, è aumentata nella regione Veneto, mentre è leggermente calata nella regione Friuli Venezia Giulia. Aumenti consistenti in termini relativi si sono avuti nei primi due territori e come si può vedere dai grafici alla fine della tabella, in tali territori vi è stato un aumento pressoché costante di popolazione. Diverso un po' il caso della regione Veneto dove nell'ultima edizione del censimento, nel 2019, vi è stato sì un aumento di popolazione rispetto al 2011, ma più contenuto rispetto agli altri territori in termini relativi. Diverso invece è il caso della regione Friuli Venezia Giulia, il cui andamento è diverso. Siamo partiti nel 1951 da valori superiori al 1.200.000 abitanti, per poi scendere sotto tale soglia nel 1991, scendere ulteriormente nel 2001, avere poi una ripresa consistente nel 2011 e poi nuovamente un nuovo calo nell'ultima edizione censuaria. Se andiamo però ad approfondire l'analisi comunale e questa mappa un po' si sposa con quello che vi ha mostrato Rina Camporese all'inizio, vediamo come l'andamento, l'evoluzione della popolazione a livello di singolo comune è molto diversificato. In verde, in questa mappa, potete vedere i comuni in crescita sistematica. Sono i comuni che praticamente ad ogni edizione censuaria hanno registrato un aumento di popolazione rispetto all'edizione precedente. Sul versante opposto, i comuni in decrescita sistematica, comuni che ad ogni edizione del censimento hanno registrato un calo di popolazione. In una situazione intermedia troviamo i comuni qua colorati in verdolino e in arancione che sono i comuni per i quali vi è stata un'inversione di tendenza. Nel primo caso comuni che dal 1951 al 2001 hanno registrato delle continui cali di popolazione per poi nuovamente aumentare. E l'inverso per quanto riguarda i comuni con la tendenza dalla crescita alla decrescita. Tutti i comuni in bianco sono comuni per i quali non si registrano tendenze significative alternando fasi di crescita a fasi di decrescita. In termini numerici, nel caso della provincia di Bolzano vi sono ben 55 comuni in crescita sistematica che vale a dire circa un comune su due mentre nessun comune presenta una situazione di decrescita sistematica. La provincia di Trento presenta 13 comuni in crescita e 8 in decrescita. Nella regione Veneto la situazione più o meno si equivale con 66 comuni in crescita e 63 in decrescita mentre caratteristica è la situazione del Friuli Venezia Giulia dove a fronte di soli nove comuni in crescita sistematica vi sono ben 44 comuni in decrescita. Va detto che nel caso delle province poi della provincia autonoma di Trento e nel caso della regione Veneto la montare di popolazione andiamo a confrontare la montare di popolazione del 1951 vi chiedo cortesemente di tornare indietro con la slide se andiamo a confrontare la montare di popolazione del 1951 con la montare di popolazione del 2019 dei comuni in decrescita la montare complessivo si è pressoché dimezzato il decremento invece è stato molto più rilevante nel caso del Friuli Venezia Giulia dove nei 44 comuni qui colorati di rosso siamo passati da una popolazione complessiva di 97.000 abitanti nel 1951 a soli 35.000 nel 2019 dal punto di vista geografico possiamo vedere che le aree più interessate a questi fenomeni di decrescita costante sono collocate nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia nelle province di Pordenone e Udine nella provincia di Rovigo e nelle aree della provincia di Belluno e in quelle della provincia di Trento più vicine alla provincia di Belluno stessa quindi vi è questa vicinanza e queste zone di evidente decrescita dal punto di vista della distribuzione per sesso della popolazione non si evidenziano squilibri significativi anzi la distribuzione è un po' più equilibrata di quello che avviene a livello medio nazionale la situazione più equilibrata sia nella provincia di Bolzano dove il 49,5% della popolazione è costituito da maschi e 50,5% da femmine quella un po' più differenziata sia in Friuli Venezia Giulia dove i maschi sono il 48,6% del totale e la percentuale di donne pari al 51,4% è di poco superiore a quella che è la media nazionale del 51,3% lo stesso fenomeno può essere visto attraverso un unico indicatore che prende il nome di rapporto di mascolinità attraverso tale indicatore vediamo praticamente quanti sono gli uomini residenti ogni 100 donne e a livello di singolo comune la situazione è molto diversificata andiamo da un valore minimo dal rapporto di mascolinità di 86,8% nel comune di Brenzone sul Garda dove circa ci sono quindi 87 uomini ogni 100 donne ha un valore massimo nel comune di Proves in provincia di Bolzano dove il rapporto di mascolinità è di 134,5% vale a dire ci sono circa 134 uomini ogni 100 donne questi grafici che prendono i nomi di piramidi dell'età consentono di mettere a confronto la struttura per genere ed età di diverse popolazioni e in particolare qua su ogni grafico è stata sovrapposta la piramide del 2019 con quella del 2011 i quattro grafici si assomigliano abbastanza nei principali aspetti tutti mostrano un allargamento delle barre dall'età dai 50 anni in su rispetto a quelle che sono le barre della popolazione del 2011 contornate di rosso questo significa che è aumentato negli ultimi 8 anni il peso delle popolazioni più anziane a discapito delle popolazioni più giovani questo progressivo invecchiamento della popolazione comunque ha delle caratteristiche un po' diverse fra i singoli territori e in particolare si può vedere come nel caso della provincia di Bolzano la base della piramide sia un po' più larga rispetto a quella degli altri territori a dimostrare una maggiore tenuta della natalità rispetto agli altri territori considerati tutti questo fenomeno di invecchiamento della popolazione ovviamente si ripercuote su quelli che sono i valori dei principali indicatori demografici a livello nazionale l'età media della popolazione nel 2019 supera di poco i 45 anni sono 45,2 anni possiamo quindi vedere in queste tabelle come nella provincia di Bolzano e di Trento l'età media della popolazione sia inferiore a quella media nazionale mentre sia superiore nella regione Veneto e ancora più nel Friuli Venezia Giulia rispetto al 2011 l'età media della popolazione è aumentata in tutti i territori considerati ed è aumentata di più di due anni nella regione Veneto e il divario è leggermente inferiore ai due anni negli altri territori un altro indicatore estremamente significativo è l'indice di vecchiaia che va a misurare il rapporto fra la popolazione con almeno 65 anni e la popolazione più giovane è quella con meno di 15 anni il questo rapporto è il più basso nella provincia di Bolzano mentre è massimo nella regione Friuli Venezia Giulia dove si contano 224 ultra 65 anni ogni 100 bambini ragazzi tra gli 0 e i 14 anni a livello di singolo comune anche qua possiamo mostrare i valori minimi e massimi il valore il comune più giovane cioè quello con l'età media più bassa si colloca nella provincia autonoma di Bolzano e l'età media in questo comune di Velturno è di 38,4 anni mentre il comune più vecchio si trova in Friuli Venezia Giulia è uno dei comuni della fascia montana interessati dal processo di decrescita continua il comune di Drenchia con un'età media di 63 anni Passiamo ora all'analisi della popolazione straniera di nuovo come fatto prima andiamo a vedere quale è la montare al 31-12-2019 e la variazione rispetto al 2011 gli stranieri nelle province di Bolzano e di Trento sono circa 50.000 e 47.000 rispettivamente poco più di 107.000 in Friuli Venezia Giulia e 486.000 circa nella regione Veneto le variazioni degli stranieri rispetto al 2011 e sono positive in tutti i territori considerati con un aumento medioannuo del 3,1% nella provincia di Bolzano e di poco superiore allo zero nella provincia di Trento siamo allo 0,4% più 0,8% in Veneto e più 1,3% in Friuli Venezia Giulia qua ho messo a raffronto le variazioni assolute della popolazione di cittadinanza straniera con la popolazione di cittadinanza italiana l'aumento degli vi è un aumento degli stranieri in tutti i territori considerati ma a differenza che negli altri territori in Friuli Venezia Giulia questo aumento non è sufficiente a compensare il declino della popolazione autoctona di cittadinanza italiana portando quindi al saldo negativo di popolazione rispetto al 2011 che abbiamo visto all'inizio della presentazione nella prima slide andando a guardare il dettaglio comunale e l'insieme di tutti i territori in termini di incidenza degli stranieri sul totale della popolazione vediamo come nella provincia autonoma di Bolzano vi sono 9,4 stranieri ogni 100 residenti 8,6 in provincia di Trento 10 nella regione Veneto e 8,9 in Friuli Venezia Giulia si tratta in tutti i casi di incidenze superiori alla media nazionale che è dell'8,4% nella mappa di dettaglio comunale possiamo vedere come le incidenze più elevate si registrino nei comuni capoluogo di provincia probabilmente per la maggiore attrattività di questi territori e poi nelle zone a maggiore sviluppo industriale del Friuli Venezia Giulia che sono situate nel Pordenonese e tutta la fascia centrale della regione Veneto nella mappa i comuni con il colore più acceso sono praticamente il 20% dei comuni in cui vi sono le percentuali più elevate di stranieri e l'incidenza più elevata arriva al 26,8% nel comune di Monfalcone in Friuli Venezia Giulia anche qua come prima possiamo mettere a confronto le piramidi per età della popolazione straniera e qua la piramide viene messa a confronto con quella della corrispondente popolazione di cittadinanza italiana sono qua evidenti le differenze fra le due popolazioni differenze che sono legate a una struttura decisamente più giovane della popolazione straniera rispetto a quella italiana nella popolazione straniera la fascia di età più rappresentata è quella compresa fra i 30 e i 39 anni mentre nella popolazione italiana la fascia più rappresentata è quella fra i 50 e i 59 rispetto inoltre alla popolazione italiana nella popolazione straniera vi è un maggiore squilibrio di genere con una maggiore presenza delle donne sul totale anche qua queste differenze si poi ripercuotono a livello di indicatori a livello nazionale l'età media della popolazione italiana è di 11 anni e mezzo inferiore scusate l'età media della popolazione straniera è di 11 anni e mezzo inferiore a quella della popolazione italiana a livello di singoli territori il divario più basso si ha nella provincia di Bolzano dove la differenza fra l'età media della popolazione straniera e quella della popolazione italiana supera di poco gli otto anni e questo divario è dovuto non tanto a una bassa età media degli stranieri quanto a una bassa età media della popolazione italiana il divario poi fra le due età aumenta nei diversi territori arrivando a un massimo in Friuli Venezia Giulia dove la differenza fra l'età media della popolazione straniera e di quella italiana è di 13 anni estremamente diversi poi gli indici di vecchiaia che arrivano nel Friuli Venezia Giulia ha 252,4 per la popolazione italiana vale a dire abbiamo 252 ultra 65 anni ogni 100 bambini ragazzi fino a 14 anni mentre il corrispondente valore nella popolazione straniera è del 34,7 ma è ancora decisamente più basso in Veneto dove l'indice di vecchiaia degli stranieri è pari a 22,6 la distribuzione della popolazione straniera per aree geografiche di provenienza a livello medio nazionale circa uno straniero di due su due proviene da un altro paese europeo a livello dei nostri territori la distribuzione è un po' diversa particolarmente nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento la maggioranza e anche nel Friuli Venezia Giulia la maggioranza degli stranieri proviene da altri paesi dell'Europa mentre vanno via via a scendere le presenze di stranieri provenienti dagli altri continenti la distribuzione più eterogenea si ha in Veneto dove circa uno straniero su due è cittadino di un paese europeo uno su cinque è asiatico e uno su cinque è africano arrivo adesso alle ultime due slide che vanno a mostrare quali sono le dieci nazionalità più presenti nei singoli territori a livello nazionale la nazionalità più rappresentata è quella rumena diverso il caso della provincia di Bolzano vi chiedo scusa ho un problema di nuovo con lo schermo grazie diverso il caso della provincia di Bolzano dove la prima nazionalità rappresentata è quella degli albanesi mentre i rumeni arrivano appena in quinta posizione al secondo posto per la vicinanza sicuramente culturale e linguistica abbiamo i cittadini stranieri con cittadinanza tedesca che sono assolutamente minoritari nel contesto nazionale ma sono la seconda nazionalità più rappresentata nella provincia di Bolzano quando invece passiamo alla provincia di Trento troviamo come in Italia che la nazionalità più rappresentata è quella rumena e anzi le prime tre nazionalità corrispondono esattamente alle prime tre presenti nella graduatoria media nazionale vale a dire Romania Albania e Marocco passando ora agli ultimi due territori considerati di nuovo anche per il Veneto al primo posto abbiamo la Romania successivamente abbiamo il Marocco che nella graduatoria nazionale occupa invece la terza posizione a differenza che negli altri territori tra le prime dieci nazionalità presenti appaiono i cittadini stranieri provenienti da India Nigeria e Sri Lanka a chiudere infine la situazione del Friuli Venezia Giulia dove tra le prime dieci nazionalità ben sette sono relative a paesi dell'Europa orientale abbiamo di nuovo la Romania al primo posto con una percentuale del tutto simile a quella media nazionale è interessante vedere nel caso del Friuli Venezia Giulia come quattro delle dieci nazionalità corrisiderate vale a dire Serbia Croazia Kosovo e Bosnia Erzegovina facciano riferimento a paesi del ex Jugoslavia nell'insieme queste nazionalità rappresentano il 15% degli stranieri residenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia mentre a livello medio nazionale sono appena l'1,5% interessante anche è la presenza nel Veneto di cittadini provenienti dal Bangladesh ancora più rilevante nel caso del Friuli Venezia Giulia come estrema sintesi possiamo pertanto dire che i quattro territori sono sicuramente accomunati da caratteristiche comuni legate al progressivo invecchiamento della popolazione ma differiscono fra loro per una evoluzione diversa sia in termini di direzione in crescita in tali casi ed è crescita in altri sia per velocità dei mutamenti stessi io vi ringrazio tutti e chiedo ancora scusa per qualche problema tecnico che mi ha costretto un po' a rallentare la presentazione grazie a tutti e buon proseguimento Elena grazie grazie a te non ti preoccupare i problemi tecnici stiamo sperimentando tutti tanto in questo periodo di lunghissimi e numerosissimi web meeting e incontri in digitale ci rendono anche un po' più umani e meno macchie quindi grazie grazie molto per la presentazione adesso do la parola a Roberto Costa che come Elena è un ricercatore della sede di Trieste e approfondirà il quadro descrivendo i principali tratti della popolazione questa volta per titolo di studio e condizione professionale vediamo aperto eccomi qua buongiorno a tutti in questa breve presentazione come ha detto Rina vi presenterò i primi risultati relativi al titolo di studio e alla condizione professionale della popolazione residente nei territori come abbiamo già visto delle province autonome di Trento Bolzano del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per entrambi gli argomenti farò un una prima una panoramica sui livelli di sui livelli e le variazioni intercorse dal censimento 2011 al censimento appunto 2019 per poi scendere a alcuni veloci flash per quanto riguarda il livello provinciale e comunale partiamo dal titolo di studio allora la prima considerazione da fare allora intanto aggreghiamo i titoli di studio in tre grandi classi diciamo la prima è il raggiungimento di un titolo o anche di nessun titolo fino alla scuola primaria e secondaria di primo grado quindi la cosiddetta scuola dell'obbligo che vedete indicato in grigio più scuro poi c'è un titolo di scuola secondario superiore che vedete evidenziato in rosso e poi in grigio chiaro troviamo i titoli terziari e superiori ecco cosa possiamo vedere vediamo innanzitutto che per quanto riguarda la popolazione che ha raggiunto il titolo di studio più basso tutti i territori seppur con differenze abbastanza evidenti sono a livelli diciamo migliori rispetto al dato nazionale che vede circa una persona su due aver conseguito un titolo di studio fino alla scuola dell'obbligo allo stesso tempo anche per quanto riguarda l'istruzione secondaria il quadro dei territori da noi presi in considerazione risulta migliore rispetto all'Italia per quanto come potete vedere i dati del Veneto sono abbastanza allineati con quelli nazionali dove si vede qualche differenza qualche differenza si vede soprattutto nel nel titolo di terziario e superiore quindi l'università dottorato le scuole di 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 alta professionalità eccetera cosa succede in questo caso come potete vedere la provincia autonoma di Trento si colloca sopra la media nazionale il Friuli Venezia Giulia è in linea e mentre Veneto e provincia autonoma di Bolzano sono leggermente sotto questo valore andando avanti e esplodendo i titoli di studio e quindi osservando tutte le possibili classi quello che si evidenzia è innanzitutto che le persone prive di titolo di studio quindi la prima voce che trovate in alto sono comunque nei quattro territori di meno rispetto alla media nazionale che è di 4,6% di individui analfabeti o alfabeti privi di titolo di studio andando invece nelle categorie diciamo più nei titoli di studio più elevati possiamo vedere come per quanto riguarda il titolo di studio terziario di primo livello ovvero sia il diploma universitario la laurea o il diploma di alta formazione artistica musicale di primo livello la scuola diretta a fini speciali eccetera i quattro territori da noi presi in considerazione sono comunque presentano comunque un livello superiore rispetto alla media nazionale e cosa cambia cambia la quota di individui che hanno raggiunto un titolo di studio terziario di secondo livello ovvero sia come dicevo prima la laurea magistrale il dottorato eccetera in questo caso la provincia autonoma di Trento è in linea con il dato nazionale quindi 10,1% di residenti hanno conseguito questo titolo di studio mentre negli altri territori la quota è tendenzialmente più bassa solo il Friuli Venezia Giulia col 9,8% si avvicina al dato nazionale proseguendo per quanto riguarda il titolo di studio un'altra cosa molto importante da vedere è le differenze di genere differenze di genere che a livello nazionale non riguardano tanto la prima fascia quindi del titolo di chi era giunto fino a un titolo della scuola dell'obbligo che come vedete più o meno si equilibrano ma si vede di più per quanto riguarda il raggiungimento di un titolo di tipo terziario quindi universitario da questo punto di vista possiamo vedere che sia nella media nazionale che negli altri territori da noi osservati il numero di donne che hanno conseguito un titolo di studio terziario superiore sono sempre maggiori rispetto a quello dei maschi allo stesso modo però dobbiamo vedere come c'è una sorta di polarizzazione verso le due categorie estreme e di conseguenza c'è una quota maggiore di femmine che ha un titolo di scuola diciamo fino alla scuola dell'obbligo rispetto ai maschi ecco una nota diciamo di piccola criticità riguarda il Veneto dove la componente di donne che ha un titolo di studio diciamo chiamiamolo della scuola dell'obbligo è superiore alla media nazionale guardiamo i confronti tra 2011 e 2019 qui invece osserviamo il fenomeno che è stato presentato anche nella sessione plenaria di un netto miglioramento nei territori per quanto riguarda il titolo di studio conseguito in otto anni come vedete nella provincia di Bolzano le persone con un titolo di studio fino alla scuola dell'obbligo è passato dal 54,3% al 43% quindi con un risultato estremamente positivo è estremamente positivo anche anche se ovviamente siamo ancora lontani da quelli che sono gli obiettivi europei cresce in tutti i territori più o meno del circa tra il 2 e il 3% il numero di persone che hanno conseguito un titolo di studio terziario che come vedete passa Bolzano era l'unico che era sotto il 10% nel 2011 e si arriva al 12,3% invece nella provincia autonoma di Trento che presentava la situazione migliore nel 2011 con un 11,8% di laureati per semplificare è passato al 15,4% e proviamo a vedere cosa succede mettendo a confronto territori diciamo di livello uguale ovvero sia le province e questo grafico porta diciamo all'incrocio dei due assi il valore medio nazionale per cui abbiamo nel quadrante in alto a destra i territori le province che hanno un titolo di studio sia terziario che della scuola secondaria di secondo grado superiore alla media nazionale Padova e Trento pur presentando situazioni molto diverse con Trieste dove si evidenzia un elevato un'elevata percentuale di titoli terziari mentre la quota di titoli della scuola secondaria di secondo grado è superiore alla media ma più contenuta e Trento invece dove presenta un valore più elevato per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado Bolzano spicca nel quadrante in basso la provincia autonoma di Bolzano per quanto riguarda la quantità di individui che hanno raggiunto un titolo di scuola secondaria di secondo grado e mentre solo la provincia di Rodrigo presenta entrambi gli indicatori inferiori alla media nazionale scendiamo ancora facciamo ancora un passo in diciamo nel dettaglio e arriviamo alla popolazione con istruzione terziario superiore a livello comunale ecco per quanto riguarda la visione di questa mappa mi richiamerei a quello che aveva fatto vedere Rina all'inizio relativamente all'andamento della popolazione nei vari territori a quanto ha fatto vedere anche Elena per quanto riguarda l'età perché chiaramente questi fenomeni sono sicuramente in qualche modo correlati come vedete quella diagonale che era evidenziata con fenomeni di popolazione in costante crescita è anche quella che presenta un titolo di studio più elevato in particolare ecco tra i comuni che presentano i valori più elevati che sono quelli diciamo colorati di rosso scuro troviamo Bolzano e Bressanone che sono per quanto mi risulta anche sedi universitarie altri comuni che hanno un elevato titolo di un'elevata percentuale di laureati sono Merano Terlano e Brunico nella provincia autonoma di Trento come vedete c'è una concentrazione di titoli di studio più elevati intorno al al comune capoluogo di Trento ecco quello che si può vedere è come ci siano anche delle piccole sacche di comuni con un titolo di studio con una quota di individui con istruzione terziaria superiore più bassa che si concentrano soprattutto diciamo qui è la zona della valle Aurina quindi in alto a destra per quanto riguarda Bolzano o quella fascia centrale che dovrebbe corrispondere alla valpa Siria mentre a Trento c'è una zona più ridotta come un piccolo gruppo di comuni sopra a Cles nella val di Non passando invece a Veneto e Friuli Venezia Giulia troviamo anche qua due situazioni abbastanza particolari in Veneto come vedete la situazione è molto variegata possiamo qui rileviamo come Padova presenta il valore più elevato di individui con istruzione terziaria superiore arrivando addirittura al 27,4% ovviamente anche Padova sede universitaria seguono i comuni di Treviso di Verona Vicenza e Albignasego quindi come vedete i comuni con una maggiore percentuale di individui con titolo di scuola terziaria sono tendenzialmente comuni anche di dimensioni maggiori per quanto riguarda invece il Friuli Venezia Giulia anche in questo caso si conferma la stessa tendenza i titoli di studio più elevati il numero di individui con titolo di studio più elevato si concentrano a Udine capoluogo diciamo del capoluogo di provincia a Trieste e poi a Pordenone c'è poi una particolarità ci sono due piccoli comuni che sono Moruzzo e Pagnacco che sono comuni che distano circa una decina di chilometri da Udine e che presentano anche qui un'elevata percentuale di individui con titolo di studio terziario anche in questo caso possiamo individuare qualche zona invece con maggiore criticità e anche qui questa secondo me questa mappa valetta in relazione con quanto abbiamo visto prima perché in Friuli Venezia Giulia in particolare si evidenzia tutta la zona della montagna tra Pordenone e Udine in alto contrassegnata appunto da un titolo di studio più da una minore percentuale di individui con titolo di studio più elevato nel Veneto possiamo individuare una zona in basso nel in provincia di Rovigo e un'altra zona in provincia di Vicenza al confine appunto con con la provincia di Trento andiamo avanti e passiamo invece alla condizione professionale o non professionale e in questo grafico trovate indicato col colore rosso i diciamo i gruppi che contraddistinguono le forze lavoro quindi gli occupati o le persone in cerca di occupazione con varie tonalità di grigio le persone che non compongono le forze di lavoro e quindi chi percepisce una pensione da lavoro o redditi da capitale studenti casalinghe casalinghi o persone in altra condizione se vogliamo trovare una allora una prima considerazione in generale è che la situazione diciamo la componente delle forze di lavoro è superiore in tutti i territori e anche a fronte di una quota di persone in cerca di occupazione più bassa quindi il quadro complessivo è sostanzialmente positivo con la provincia autonoma di Bolzano che ha una percentuale sulla popolazione del 58,8 di occupati rispetto alla media nazionale del 45,6 quindi quasi 6 residenti su 10 risultano occupati dopodiché volendo andare a cercare una peculiarità per ogni territorio potremmo trovare queste differenze ad esempio in Friuli Venezia Giulia è più alta la percentuale di percettori di pensioni o di individui in altra condizione che messi assieme costituiscono quasi 3 individui su 10 e questo molto probabilmente si lega a quanto visto prima per quanto riguarda le persone anche legate al discorso dell'età in Veneto è più elevata la quota di casalinghe casalinghi quindi persone che si dedicano principalmente alla cura della casa invece in provincia di Trento troviamo la percentuale più alta di studenti studentesse siamo circa 1 su 10 in questa condizione e anche per la condizione professionale ritengo opportuno fare un passaggio su confronti di genere e guardiamo le forze di lavoro le forze di lavoro anche potete vedere come esiste comunque una differenza a favore del genere maschile seppure con meno marcata rispetto alla media nazionale diciamo le forze di lavoro a livello nazionale sono composte per il 56,6% da maschi e per il 43,4% da femmine nei nostri territori la differenza è meno accentuata la differenza minore si trova nella provincia autonoma di Bolzano dove abbiamo un 54,1% di maschi e 45,9% di femmine sulle non forze di lavoro la differenza è più evidente a livello nazionale circa 4 su 10 sono maschi e 6 su 10 sono femmine anche in questo caso seppur in misura abbastanza contenuta la differenza si riduce nei nostri territori anche in questo caso è la provincia autonoma di Bolzano che ha la differenza minore con un 41,3% di maschi e un 58,7% di femmine allora diamo un'occhiata a cosa è successo per quanto riguarda la condizione professionale non professionale scusate condizione professionale per utilizzando i tre principali tassi che in qualche modo aiutano a delineare il mondo del lavoro tasso di attività ovvero sia il rapporto tra le forze lavoro e la popolazione totale il tasso di occupazione che è il rapporto tra gli occupati e la popolazione totale e il tasso di disoccupazione che è il rapporto tra le persone in cerca di lavoro e le forze lavoro allora cosa possiamo vedere allora questa tabella presenta luci ed ombre come sia nelle aree nostre che a livello nazionale come vedete il tasso di attività ovvero il rapporto tra le forze lavoro scusatemi tra le forze lavoro e la popolazione totale di 15 anni e più è cresciuto in tutti i territori seppur di poco quindi passiamo come vedete se è una media nazionale dal 50,8 al 52,5 nei nostri territori c'è una variazione che è inferiore al punto percentuale questa cosa presenta delle differenze per genere perché come vedete il tasso di occupazione è aumentato per scusatemi il tasso di attività vedremo dopo che ci sono delle differenze di genere il tasso di occupazione è aumentato leggermente a livello nazionale e si è mantenuto abbastanza stabile con piccole variazioni positive o negative e infine il tasso di disoccupazione è in crescita dappertutto quindi questo ci segnala anche un fenomeno di aumento di quella che è la componente delle forze di lavoro Roberto scusami intervengo ai due minutini rubati agli altri relatori sono alla provincia arrivo veloce veloce allora anche qui ho messo in relazione il tasso di disoccupazione col tasso di attività e vedete che Bolzano si caratterizza per una situazione estremamente positiva con tasso di attività elevato e tasso di disoccupazione basso al contrario all'estremo dall'altra parte troviamo Trieste e Gorizia con i valori più elevati del tasso di disoccupazione a cui corrisponde anche un valore più basso del tasso di attività andiamo sul territorio e il territorio ci presenta in qualche modo le stesse dinamiche che abbiamo visto prima anche per il titolo di studio quindi con una fascia centrale per quanto riguarda la provincia di Trento e una fascia per quanto riguarda l'area della provincia autonoma di Bolzano quindi contrassegnata da quei colori rosso un po' più scuro e delle aree che in qualche modo richiamano per certi versi anche quello che avevamo visto prima per quanto riguarda il titolo di studio quindi l'area estrema sulla sinistra della provincia di Bolzano e quest'area diciamo all'estrema destra della provincia di Trento in particolare ecco i comuni con un tasso di attività più elevato nella provincia autonoma di Bolzano sono sull'asse tra Bolzano e Merano e sono a Velengo Verano e Plaus oltre a alcuni comuni molto piccoli come Lauregno e poi c'è Terento che spicca nella Valpusteria arrivando a Veneto e a Fulrivenza Giulia anche qua ci sono delle differenze più marcate c'è quella fascia centrale solita del Veneto però molto più variegata vedete è un po' a macchia di Leopardo mentre in Fulrivenza Giulia potete vedere che è molto concentrato nell'area del Pordenonese mentre risulta più critica l'area montana che avevamo visto purtroppo anche prima per quanto riguarda la zona sia di Pordenone che di Udine scusate chiudo con alcune considerazioni allora il quadro è sostanzialmente positivo sia per quanto riguarda il livello di istruzione che per quanto riguarda il quadro dell'occupazione possiamo evidenziare due punti di forza che sono i grandi progressi registrati nei livelli di istruzione e i livelli raggiunti degli indicatori del lavoro che collocano i nostri territori stabilmente sopra la media nazionale nel contempo però possiamo evidenziare anche alcune piccole criticità allora le differenze di genere che seppur contenute ancora permangono sia per quanto riguarda l'istruzione che per quanto riguarda l'occupazione e i segnali di difficoltà per quanto riguarda il tasso di disoccupazione che sicuramente stanno risentendo degli ultimi effetti della crisi economica ma che purtroppo ci aspettiamo che dovranno scontare anche gli effetti dell'attuale pandemia e infine la maggiore fragilità di alcune aree con tasso di attività contenuto come abbiamo visto prima abbinato a segnali meno positivi sia per quanto riguarda il profilo demografico che abbiamo illustrato Elena che per quanto riguarda la disponibilità di servizi e infrastrutture che vi mostrerà poi il collega Roberto vi ringrazio e a presto benissimo grazie Roberto adesso diamo la parola ad un altro Roberto che è Roberto Colotti questa volta ed è anche lui un ricercatore però della sede di Venezia così piano che conoscete se già non li conoscete e Roberto Colotti ci mostrerà un punto di vista diverso sul territorio che ci allontana un po' dai tradizionali confini amministrativi come vi dicevo all'inizio ai confini amministrativi sovracomunali a cui siamo abituati a fare riferimento perché definirà e poi mostrerà alcuni dati sulle cosiddette aree interne e scopriremo qui di che cosa si tratta grazie al suo intervento bene buongiorno a tutti confermatevi che vedete lo schermo la presentazione che mi sentite sì tutto bene perfetto allora buongiorno a tutti e entriamo appunto nel merito di questa terza parte di quello che è il report regionale ed è proprio lo sfruttare il rilascio dei dati di un censimento della popolazione per avere un approccio diverso nella lettura del territorio e questa parte si concentra sul guardare il territorio e la sua popolazione attraverso una classificazione che è quella stata definita nella strategia nazionale delle aree interne che non è una classificazione istat è una classificazione del dipartimento dello sviluppo della coesione economica ora agenzia per la coesione territoriale definita nel 2012 e rivista nel 2014 il territorio viene caratterizzato mediante l'individuazione di poli sono dei comuni singoli oppure delle aggregazioni di comuni limitrofi che fungono da centri di offerta di servizi e attorno a questi gravitano gli altri comuni allora viene utilizzata la distanza spaziale rispetto ai poli per misurare la perifericità della popolazione non è per dare un giudizio ma per poter comunque misurare questa distanza rispetto ai servizi e la disponibilità di questi servizi come vengono classificati questi comuni da una parte si individuano quali sono i centri ovvero i comuni definiti come poli o poli intercomunali a seconda che siano comuni singoli o aggregazioni che offrono dei servizi quali servizi sono stati individuati un'offerta scolastica secondaria superiore allora che sia presente almeno un liceo o un istituto tecnico e professionale un'offerta sanitaria quindi che in questo centro sia disponibile almeno un ospedale sedi di idea dipartimento di emergenza urgenza eccitazione di primo livello ovvero che ci sia una struttura di pronto soccorso con una serie di strutture atte a risolvere quelli che sono i problemi di un diagnostico terapeutici dei pazienti in una situazione critica la terza offerta è quella relativa alla mobilità individuata nella disponibilità di un servizio ferroviario quindi che in questo comune sia disponibile una stazione ferroviaria almeno di tipo silver secondo una classificazione della rete ferroviaria italiana che corrisponde comunque a degli impianti medio piccoli con un servizio almeno locale attorno a questi centri sono gli altri comuni che sono quelli che possono richiedere i servizi e sono classificati in base ad un indicatore di accessibilità ovvero il tempo di percorrenza che serve per raggiungere il polo più vicino il primo gruppo di comuni sono chiamati cintura sono i comuni la cui distanza dal polo più vicino è entro i 20 minuti oltre questa barriera dei 20 minuti sono collocati i comuni definiti come aree interne sono classificati in tre livelli a seconda delle fasce di distanza comuni intermedi quindi tra i 20 e i 40 minuti di tempo per raggiungere il polo più vicino tra i 40 e i 75 minuti i periferici e gli ultraperiferici i comuni che vanno oltre loro un quarto di percorrenza per raggiungere questi servizi la distanza non è legata al territorio ovvero l'appartenenza ad una regione o una provincia ma è semplicemente proprio una distanza per raggiungere il servizio quindi andiamo oltre quelle che sono i confini amministrativi come si distribuiscono nei nostri territori nei quattro territori oggetti nella nostra attenzione nella provincia autonoma di Bolzano come vediamo sono in rosso sono i tre poli sono Bolzano Merano e Fipiteno attorno a questi in giallo sono individuate questa prima fascia entro i 20 minuti di distanza di cintura e poi piano piano ci si allarga con quelli che sono i comuni delle aree interne certamente come per la provincia autonoma di Trento dove il polo è uno solo che il comune di Trento con una fascia la speciale orografia la conformazione naturale del territorio di queste due province autonome non aiutano la raggiungibilità di questi centri fornitori di servizi come vediamo i comuni aree interne sono molto numerosi per quanto riguarda Bolzano e Trento situazione diversa la vediamo invece nelle altre due regioni dove il Veneto si presenta addirittura con un'ampia distribuzione dell'offerta di servizi con ben 27 tra poli e poli intercomunali poli intercomunali sono aggregazioni di comuni di mitrofi e sono presenti in tutte le province molto ampia è la fascia di cintura questi colore sul giallo e molto più rarefatte molto più distanziate sono le fasce delle aree le alle collocazioni delle aree intermedie per ultimo la regione del filo di Venezia e Giulia anche qua vediamo ben otto poli distribuiti nella fascia centrale quella più più pianura anche se poi Gemona raggiunge in una fascia quasi più demontana e più lontani appunto nelle fasce montane soprattutto a nord abbiamo le aree interne quindi comuni intermedie o periferici nessun comune presenta una distanza sopra i 75 minuti vediamo una rassegna di alcuni indicatori relativi a queste realtà nei quattro territori la prima sarà la popolazione residente nelle quattro province e regioni allora innanzitutto possiamo vedere la distribuzione 300 aree interne nella provincia di Bolzano quasi i due terzi della popolazione si concentra in quelli che sono i poli e i comuni limitrofi di cintura il 37% invece sta nelle aree interne una situazione diversa invece nella provincia autonoma di Trento dove c'è una distribuzione quasi omogenea addirittura con una maggioranza di popolazione che sta nelle aree interne quindi oltre i 40 minuti scusate oltre i 20 minuti di distanza dal centro di servizi passando invece nelle due regioni con queste realtà più distribuite con una maggiore presenza di poli di centri anzi il Veneto abbiamo l'82% della popolazione concentrata in queste fasce di raggiungibilità entro i 20 minuti dei servizi e in Friuli Venezia Giulia ancora più alta questa distribuzione della popolazione con l'87% della popolazione che si concentra in questi centri la crescita la variazione medioannua tra gli ultimi due censimenti tra il 2011 e il 2019 vede una crescita positiva comunque confermata anche a livello generale della regione più forte per quanto riguarda i centri sia nella provincia autonoma di Bolzano che quella di Trento una costanza di popolazione una crescita molto leggera per quanto riguarda il Veneto e invece un calo per quanto riguarda le aree interne del Veneto come se appunto la distanza in qualche modo influisce e in Friuli Venezia Giulia si conferma la negatività di crescita generale ma i poli si distinguono per lo meno un mantenimento del livello della popolazione 0,5 la presenza straniera qui l'ho calcolata ha fatto emergere come incidenza rispetto alla popolazione residente nel territorio vediamo che i quattro poli vedono un'incidenza maggiore arriviamo addirittura al 14,4% nei tre poli della provincia autonoma di Bolzano e comunque restiamo sempre a cifre oltre le due cifre per quanto riguarda gli altri poli abbiamo scusate mi è scappata abbiamo comunque dei valori di crescita più forte per quanto riguarda la provincia di Bolzano abbiamo anche qua come per la popolazione una crescita della presenza straniera per quanto riguarda i centri e un calo per quanto riguarda le aree interne nella provincia autonoma di Trento in Veneto ci sarebbe una tendenza analoga ma in qualche modo i comuni i 34 comuni periferici del Veneto hanno visto addirittura una crescita molto forte come presenza straniera qui sarebbe da approfondire per individuare il perché di Venezia Giulia c'è una crescita invece della presenza straniera che va a contrastare ma già nella presentazione precedente della collega Elena faceva emergere il fatto che c'era una crescita della presenza straniera che non compensava comunque il caso dei residenti di nazionalità italiana la struttura della popolazione qui emergono dati che abbiamo visto prima ma possiamo vedere che appunto i poli per esempio per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano il poli risultano essere con l'età media più alta e anche un indice di vecchiaia ben più alta rispetto a quelle presentate dalle altre realtà come come classificazione di questi comuni diversamente pur confermando un'età alta e valori più alti nella provincia di Trento sono gli ultraperiferici 14 comuni ultraperiferici che presentano un'età media più alta e un indice di vecchiaia quasi vicino al 200 il Veneto vediamo che sia i poli che i comuni periferici lasciamo parli di ultraperiferici perché sono soltanto due molto piccoli ma hanno una vecchiaia una presenza di persone anziane superiore sia alla media sia come incidenza con l'indice di vecchiaia infine emerge per quanto riguarda Alfiruni Venezia Giulia i comuni periferici sono 23 comuni dove a un'età media superiore ai 50 anni appunto si aggiunge un indice di vecchiaia che è ben oltre i 300 vediamo in questa panoramica due indicatori che sono costruiti con delle informazioni che sono peculiari del censimento sono quello relativo all'istruzione che è già stata presentata dal collega che mi ha preceduto il primo Roberto di questa rassegna e dopo vedremo anche l'occupazione allora come possiamo vedere si ribadisce il fatto che i poli sono i punti in cui le realtà territoriali in cui la la percentuale di popolazione che ha un titolo per almeno universitario sono superiori quindi appunto 17,2 per quanto riguarda i poli nella provincia di Polzano 22,7 per quanto riguarda i poli di Trento 18,8 per quanto riguarda i poli nel Veneto 19% per quanto riguarda i poli del Friuli Venezia Giulia emerge ancora un bel valore per quanto riguarda comunque il terziario anche il titolo di studio terziario anche per quanto riguarda le aree interne nella provincia autonoma di Trento alti sono per conseguenza comunque molto alti quasi 40 una media del 45 6 45 8 per cento la percentuale di popolazione che ha un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado nella provincia autonoma di Bolzano più bassi invece appunto nelle altre nelle altre aree ultimo indicatore che andiamo a vedere è quello dell'occupazione in cui andiamo a vedere che il valore più basso del tasso di occupazione si presenta nel polo e normalmente è così nel polo di Bolzano 52,9 nella provincia autonoma di Trento un valore comunque più basso sarebbe nel polo ma più basso ancora si raggiunge nei comuni ultraperiferici quindi quelli più lontani rispetto ai centri a questi centri di distribuzione di servizi nel Veneto abbiamo appunto valori più bassi nei poli e nei comuni ultraperiferici nei comuni periferici l'ultraperiferico lo trascuriamo perché appunto essendo piccolissimi quindi comunque hanno un valore molto molto basso e invece nel Friuli Venezia Giulia la distanza sembra essere un indicatore di tasso di occupazione ben più basso rispetto a quella che è la media regionale e anche delle altre realtà di fascia il tasso di disoccupazione è più alto anche se il calcolo viene fatto su popolazioni diverse rispetto a quello tasso di occupazione comunque risulta essere sempre più alto nelle realtà dei poli ma in qualche modo possiamo vedere molto alto qua nel Friuli Venezia Giulia con 11% per quanto riguarda il polo qua comunque si conferma per quanto riguarda il Veneto sia nei poli che nelle comuni fascia periferica i valori risultano di tasso di disoccupazione quelli più alti ho fatto una panoramica molto veloce nella vostra nei dati che saranno messi in linea avrete la possibilità di approfondire e incrociare con altri dati per poter eventualmente fare gli approfondimenti sulle tematiche che possono interessare in questo modo diverso di approcciare la lettura del territorio con i dati del censimento con questo ho terminato sono stato molto veloce quindi abbiamo recuperato il tempo e vi ringrazio per l'attenzione benissimo Roberto grazie mille e adesso passiamo all'ultimo intervento scaletta che è quello di Roberto Samara oggi abbiamo avrete notato ben tre Roberto tra i relatori la cosa mi diverte moltissimo dunque Roberto Samara lavora al comune di Curizia ma qui è in veste di vicepresidente del LUSCI che è l'unione statistica dei comuni italiani e ci parlerà delle prospettive di utilizzo dei dati censuari per la governance del territorio come avete sentito ogni sessione tutte le parallele contiene uno sguardo esterno sui dati esterno all'ISTAT e questo per riconoscere da una parte il contributo di un sistema complessivo proprio alla costruzione alla valorizzazione di questi dati e anche perché uno sguardo esterno è sempre arricchente proprio nel leggerli e quindi do la parola a Roberto Samara grazie Irina intanto vi chiedo conferma del fatto che mi sentiate che vediate la prima slide sì tutto a posto perfetto grazie prima di partire con la mia presentazione ci tenevo a fare un rapidissimo una rapidissima introduzione perché in apertura del mio intervento desidero ringraziare intanto l'ufficio regionale ISTAT del Friuli Venezia Giulia è quello del Veneto con cui collaboro attivamente da svariati anni seppure come ovvio su progetti e su fronti estremamente diversi in quanto espressione di realtà regionali molto differenti tra di loro l'associazione nazionale degli uffici di statistica di cui ho l'onore di essere vicepresidente è partner tecnico scientifico dell'ISTAT e collabora con le direzioni centrali dell'istituto e contribuisce attivamente a moltissimi progetti a innovazione di processo e di prodotto tra cui quelle che sono state presentate anche nella parte introduttiva a livello nazionale queste collaborazioni hanno portato ad esempio anche al successo di quella che è la più grande rilevazione statistica sulle famiglie che è quella del censimento permanente della popolazione che è stata condotta da ISTAT ma è stata condotta anche da svariate migliaia di comuni che si è tenuta negli anni 2018 e 2019 un ultimo rapido accenno prima di passare diciamo alla parte meno noiosa se vogliamo ci tenevo a citare i tavoli tecnici regionali che sono dei gruppi di lavoro operativi a livello territoriale regionale quindi ciascuna ogni regione ha un tavolo tecnico regionale sono stati istituiti in forza di un protocollo di intesa sottoscritto dal presidente dell'ISTAT dal presidente dell'ANCI da quello che rappresenta regioni e province autonome e quello che rappresenta le province a cui collaborano numerosi colleghi della nostra associazione in ogni regione riteniamo sia una vera scommessa sul futuro che noi contiamo di poter vincere grazie sia alla conoscenza del territorio che portiamo noi come comuni e come associazioni perché ribadisco il fatto che ogni regione in realtà al di là delle caratteristiche identificative dei residenti contiene anche una serie di enti che sono estremamente eterogenei tra di loro grazie all'impegno di quelli che ho piacere di chiamare colleghi e che operano presso ciascuna delle sedi regionali stat oltre ai rappresentanti degli altri enti coinvolti così tenevo a fare questa introduzione allora venendo senti me l'hai girata ti ringrazio io al volo adesso grazie a te venendo alla presentazione allora cosa fa un ente un comune una provincia una regione una camera di commercio con questa mole di dati che è stata presentata più tutti gli altri dati che vengono messi a disposizione allora deve conoscere per decidere quindi ci sono degli uffici uffici studi uffici analisi uffici censimento statistica come quello che di cui sono responsabile io che devono conoscere conoscere capire per poi portare questa comprensione della realtà misurata ai decisori agli amministratori si deve passare da quella che è la percezione dell'esistenza di una cosa di una soggettività che tante volte è già un grande passo avanti fino alla cognizione piena dei suoi modi e delle sue qualità allora noi veniamo costantemente sommersi da una quantità veramente incredibile di dati statistici utilizzati dai mass media e sui social naturalmente è importante chiedersi cosa significhi esattamente il dato che mi viene presentato da dove proviene per quale motivo è stato raccolto cosa ancora più importante si tratta dell'invenzione di qualche cantastorie si tratta di una fake news oppure no quindi dobbiamo fare una grande attenzione a quello che è l'esatto significato dei dati e alla confrontabilità degli stessi non possiamo rimanere acritici e distanti e pensare che il numero che ci viene presentato in realtà è fine a se stesso può essere confrontato con qualsiasi altra cosa dobbiamo vedere esattamente cosa significa quel numero se utilizziamo statistica ufficiale quindi quella prodotta dal sistema statistico nazionale diciamo che abbiamo già fatto un grande passo avanti perché abbiamo la garanzia che non si tratti in alcuna maniera di fake news quindi conoscere per decidere non possiamo ovviamente basarsi su generalizzazioni né su stereotipi siamo molto abituati a far a descrivere la realtà semplificandola molto semplificandola anche troppo qualche volta dimenticandoci poi che la conoscenza che stiamo utilizzando è frutto di una semplificazione c'è questa dicotomia che ci piace molto andiamo a cercare il giovane e l'anziano il noi e l'oro ha fatto la storia degli amanti delle dicotomie vediamo ad esempio per capire un po' questi dati cosa ci aiutano a descrivere e anche cosa ci aiutano a capire se la dicotomia ricchi poveri è un'invenzione da cantastorie oppure no se io dicessi ok la dicotomia ricchi poveri è vera la gente o è ricca o è povera le persone o sono ricche o sono povere se fosse vera e volessi rappresentare questa realtà su un grafico quale sarebbe la forma di questo grafico sarebbe questa ci sarebbero due poli le persone sarebbero concentrate nell'area sulla sinistra del grafico sarebbero poveri oppure sarebbero concentrate sull'area destra del grafico sarebbero ricchi in realtà non è proprio così quella che il grafico che vedete rappresentato qua mi identifica il numero di dichiarazione IRPEF per fascia di reddito di questa aggregazione dei territori a Veneto a Trentino Alto Adige quindi entrambe le province autonome e i redditi sulla sinistra sono quelli più bassi i redditi sulla destra sono quelli più alti allora la dicotomia ce la siamo persa perché in realtà vediamo siamo abituati a ragionare per dicotomie ma vediamo che la maggior parte delle persone in realtà si trova in una zona più o meno centrale un po' più spostata a sinistra un po' più spostata a destra ma è lì che si trova nel mezzo quindi noi dove vorremmo vedere una barriera che separa le due le due grandi macro aree che ci piace utilizzare per diciamo così scatolare le persone e gli individui proprio lì nel mezzo in realtà stanno tutti vediamo un po' Italia paese di stranieri vediamo una mappa dell'Italia adesso ricavata utilizzando dati originati dall'operazione del cesimento permanente della popolazione nel 2019 se io definissi la scala colorimetrica che vedo sulla sinistra quindi ho un giallino chiaro per tutti i comuni che mi andrà a colorare tutti i comuni che hanno una percentuale di stranieri tra 0,1% e il 10% un colore rosa per tutti i comuni che hanno una percentuale stranieri dal 10 al 20% blu dal 20 al 30% eccetera allora se io dovessi ascoltare e prendere per vero la maggior parte delle notizie che mi arrivano dai mass media mi immaginerei un'Italia quasi tutta rosa con qualche punta blu allora l'Italia in realtà è questa e non è per niente quasi tutta rosa con qualche punta blu è quasi tutta giallina quindi con la percentuale di stranieri tra 0,1% il 10% con qualche zona rosa e qualche rarissima punta blu allora questa è realtà misurata qua c'è poco da dire la verità è questa uno zoom a nord-est non si discosta molto è chiaro ci sono delle zone magari più dove questa percentuale è un po' più alta il comune per cui lavoro sta nel friulio Venezia Giulia quindi mi è più semplice individuare qual è la piccola zona blu che sta nel friulio Venezia Giulia e Monfalcone che è un'area portuale dove vengono costruite le grandi navi da crociera va bene certo stiamo parlando dell'unica l'unico comune color bluet in tutto il friulio Venezia Giulia nell'area che vedo qua indicata 1,2,3,4,5 molto pochi vediamo Italia paese di vecchi vediamo se funziona allora abbiamo detto le dicotomie abbiamo capito che non va bene utilizzarla beh qui ho preso una scala molto ampia ci sentiamo sempre bombardare dall'altra notizia Italia paese di vecchi quelle percentuali non sto adesso a descriverle comunque vedete si parte da un colore giallino e si va a un blu intenso allora Italia paese di vecchi l'uomo della strada non abituato a avere a che fare con i dati come me la vede colorata l'Italia se dovesse definirla in questa maniera qua un azzurrino medio un 30% questa è l'Italia colorata utilizzando quei colori là è praticamente tutta gialla allora certo ci sono gli anziani certo abbiamo una serie di indicatori che ci dicono che potremmo fare meglio che abbiamo dei problemi da risolvere che dobbiamo stare attenti a una popolazione che può essere più fragile questo è sicuro però se la percentuale dei residenti over 75 e dallo 0 al 10% significa che tutti gli altri stanno dal 90% al 99 non bisogna dimenticarsi degli altri questo è lo zoom a nord-est sul paese dei vecchi sempre utilizzando quella scala colorimetrica là allora è chiaro che le scale colorimetriche non devono essere utilizzate in questa maniera io qui sto cercando di far vedere ciò che i dati non mostrano perché ciò che i dati mostrano è stato descritto molto meglio di quello che sarei in grado di fare io dai colleghi ricercatori dell'istat che mi hanno preseduto io parlo da diciamo utilizzatore professionale di questi dati quello che faccio di mestiere tutti i giorni quindi conoscere per decidere le informazioni che otteniamo dal censimento attualmente attualmente mi rifaccio a ciò che è stato detto dal professor Francesco Maria Kelly nella parte iniziale della presentazione sono disponibili a livello territoriale comunale ci sono chiaramente tantissimi indicatori alcuni li abbiamo già visti vi sono stati presentati altri è possibile ricavarli dai dati che troverete ai link che ci sono al termine della mia presentazione e anche di alcune altre c'è un limite però per quanto riguarda questi dati che cos'è questa specie di ragno di questa specie di ragnatela che c'è sopra l'Italia allora questo mi rappresenta la mobilità quindi il pendolarismo per motivi di studio di lavoro da un comune all'altro ogni volta che c'è almeno una persona che da un comune si sposta verso un altro comune per motivi di studio per motivi di lavoro io su questo grafico qui ho fatto una piccola righetta bianca quindi questo non mi dà l'intensità diciamo non mi descrive l'intensità degli spostamenti però intanto mi dice più o meno dove ci sono e ci facciamo già dell'idea di dove siano i grossi centri dove questi spostamenti questo pendolarismo sia più marcato questi sono dati che sono stati ricavati dal censimento della popolazione 2011 perché per quanto riguarda il censimento 18-19 non sono ancora stati pubblicati ma lo saranno comunque abbiamo visto nella presentazione di Saverio Gazzelloni vediamo un po' se zoomo a nord-est sempre allora qua siamo sempre nella condizione precedente quella che riguardava la mappetta dell'Italia intera quindi non c'è ancora nulla che mi vada a identificare il fatto che da un territorio all'altro lo spostamento il pendolarismo sia più o meno marcato solo mi dice che c'è cosa succede se invece cerco il modo di rappresentare quanto forte sia l'intensità di questi spostamenti questo fa parte di uno studio che ho fatto quando sono sedi dati dell'accensimento 2011 quindi credo fine 2012 inizio 2003 se non ricordo si formano come dei bozzoli allora vi invito a fare mente locale a cercare di fare un parallelismo tra questi bozzoli e ciò che vi è stato presentato prima dal collega Roberto Colotti per quanto riguarda i poli ci sono delle analogie molto forti chiaramente come vedete alcune cose in realtà alcuni concetti alcune realtà della società che abbiamo lasciato fuori dal nostro ufficio fuori dal nostro studio possono venire descritte anche utilizzando dati molto diversi tra di loro mi si accende un campanello mi viene un'idea guardando questi dati è la stessa idea mi viene guardando i dati presentati da Roberto Colotti qui manca qualcosa però noi siamo una realtà questa del nord-est che è parecchio abituata ad avere relazione di confine quindi ci sono studenti ci sono lavoratori che passano il confine manca qualcosa qua qua manca qualcosa vi assicuro che io conosco bene la mia regione quindi delle altre non vado a parlare non mi azzardo a fare ipotesi però una cosa di cui sono assolutamente certo e sicuro è che per quanto riguarda la zona di Gorizia la zona di Trieste ci sarebbero sicuramente delle barrette rosse verso la vicina Slovenia probabilmente nel Tarvisiano vicino all'Austria mancano gli spostamenti che coinvolgono l'estero è ovvio chiaramente che manchino perché la fonte dei dati che è stata utilizzata è quella del sensimento della popolazione italiana non siamo andati a chiedere agli sloveni che abitano oltre confine fino a 150 chilometri se per caso in quella settimana sono andati in Italia per motivi di studio di lavoro eccetera quindi è chiaro che qua manca qualcosa che però mentre per quanto può riguardare altre regioni magari non è così importante per quanto riguarda regioni come Trettino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia ma penso anche al Piemonte penso alla Val d'Aosta ad esempio prima che mi vengono in mente è chiaro che il movimento da per l'estero è importante va misurato perché questo? bisogna trovare assolutamente il modo di misurare questi spostamenti lo si può fare probabilmente utilizzando in maniera più approfondita e più spinta gli archivi amministrativi perché probabilmente si tratta di persone che appunto spostandosi per motivi di studio di lavoro sono registrate e compaiono da qualche parte ed è molto importante sapere questa cosa perché se uno dovesse andare a cercare di calcolare l'impatto che ha sul territorio del proprio comune e possibilmente anche in quale zona del territorio del proprio comune la presenza di non so un certo numero di studenti universitari un certo numero di lavoratori magari sarebbe in grado di prevedere variazioni al piano regolatore generale che altrimenti non sarebbe in grado di poter prevedere quindi conoscere per decidere io la mia presentazione in realtà l'ho già conclusa ci tenevo però a mettere come come ultima slide ho visto che l'ha fatto più di qualcuno in realtà quindi va bene così una serie di link a partire da quello che riguarda il data browser del censimento della popolazione il data browser che sono stati presentati all'inizio e da cui tutti i dati che vi sono stati presentati sono stati ricavati vi ringrazio benissimo grazie a te Roberto allora avete visto quante cose interessanti si possono operare dei dati e quanti punti punti di vista diversi di sguardo diversi possono poi integrarsi e trovare rafforzarsi o distinguersi di uno dall'altro allora adesso è arrivato il momento delle domande io le porrò ne abbiamo alcune le porrò in ordine di relazioni quindi la prima la pongo a Elena e la domanda è questa nei grafici ha illustrato la composizione della popolazione straniera per continente di provenienza chiedono esiste anche un uguale grafico però differenziato per uomini e donne quindi che evidenzia la differenza di genere sì grazie per la domanda esiste sicuramente un grafico che non ho preparato perché credo che la mia presentazione fosse già sufficientemente ricca di grafici vi sono delle differenze tra gli stranieri con cittadinanze di paesi europei e americani prevalgono le donne in tutti i territori considerati mentre al contrario prevalgono gli uomini tra i cittadini stranieri africani e quelli asiatici se poi però si va ad analizzare questa differenza tra sub aree continentali vi sono delle difformità ad esempio nel caso dei cittadini africani sono nettamente prevalenti le donne tra i cittadini dell'Africa orientale mentre prevalgono gli uomini tra quelli delle altre zone allo stesso modo si può vedere come tra gli asiatici prevalgono gli uomini tra gli asiatici dell'area centro-meridionale mentre prevalgono le donne dagli altri territori quindi vi sono sicuramente delle differenze interessanti andando ad approfondire sulle singole aree Roberto Costa allora la domanda per te è questa rispetto alla variazione 2011-2019 dei tassi che hai presentato attività occupazione e disoccupazione anche per te c'è una differenziazione per genere l'argomento che mi interessa eccomi qua allora la risposta è sì e allora riprendo un po' i tre i tre tassi e li analizziamo velocemente assieme allora abbiamo visto che il tasso di attività a livello nazionale è cresciuto da 50,8 a 52,5% però deriva principalmente da un aumento nel genere femminile dal 41,8 al 44 mentre nel genere maschile più contenuto quindi dal 67,7 al 61,5 a livello territoriale invece quindi guardando i nostri quattro territori si evidenzia una stagnazione o riduzione del tasso di attività maschile è a fronte di un aumento di quello femminile faccio un esempio ma questa cosa si verifica su tutti i territori a Bolzano si passa per il genere femminile dal 53,3 al 55,3 mentre per gli uomini si passa dal 68,8 al 67,4 è comunque un tasso di attività estremamente elevato perché siamo praticamente a 2 su 3 sul tasso di occupazione che è stabile nei nostri territori anche in questo caso ci sono tendenze di genere differenti ovunque aumenta il tasso di occupazione femminile cala quello maschile anche qui un esempio prendiamo Trento si passa dal 44,6 al 45,9 per le femmine e dal 64,5 al 63,3 per i maschi infine il tasso di disoccupazione che è quello che invece purtroppo aumenta e mantiene i divari di genere anzi in alcuni casi forse addirittura li accento un pochino abbiamo visto che a livello nazionale si passa dall'11,4 al 13,1 e con una crescita per entrambi i generi prendiamo a questo punto la mia regione il fruido Venezia Giulia come esempio si passa dal 7,4 al 9 come valore totale e da 9,1 a 10,8 per quanto riguarda le femmine e da 6,1 a 7,4 per quanto riguarda i maschi quindi diciamo sono variazioni che in qualche modo hanno portato appunto a valori superiori il 10% Rina il microfono scusate vedi Elena non sei l'unica che ha i problemi tecnici allora vi dicevo vedete che le domande fanno venire fuori come i relatori dietro in realtà abbiano un sacco di tante tabelle altri dati che possono tirar fuori nel caso sia necessario fare degli approfondimenti perché in realtà oggi abbiamo presentato un po' la superficie dei dati ma tanti altri ce ne sono e allora faccio un'altra domanda allora adesso a Roberto Colotti e te la leggo possiamo dire che il conseguimento del titolo di studio terziario risenta ancora della distanza che c'è tra la residenza e il polo universitario allora è una bella domanda e mi verrebbe facile dire ricondivido un attimo velocemente la schermata se arriva eccola qua nella mia presentazione quindi qui la distanza il concetto è sì più risiedo più lontano sono dal dal polo sembrerebbe dire meno percentuali meno portato ad avere il titolo terziario meno sono portato ad avere un titolo universitario o superiore però richiamando quella che è stata la presentazione precedente di Roberto Samar l'ultima molto interessante leggendo così il numero ti porterebbe a dare una risposta ma in realtà non è il contrario cioè io vado a risiedere nel territorio dove posso sfruttare il titolo di studio quindi in questo momento ho una fotografia che mi dice che il territorio mi attrae dove ho maggiori opportunità mi attrae per residenza dove ho maggiori opportunità di sfruttare il titolo di studio che ho e quindi questo dato da solo non basta per dare una risposta non credo che con i dati semplicemente nei censuari con queste tabelle sia possibile dare una risposta interrompo la condivisione dello schermo quindi attenzione soltanto da queste tavole sicuramente non possiamo dare una risposta automatica verrebbe da dire di sì sicuramente c'è una correlazione sì un'altra osservazione generale che trago dalla tua risposta è che in realtà i dati anche presentare dei dati così molto semplici ha proprio la funzione di stimolare delle domande e la voglia di approfondimento che in un'occasione così non possiamo fare la domanda per Roberto Samari invece è molto diversa dalle tre precedenti senti cosa ti viene chiesto cosa possiamo fare per avvicinare gli amministratori ai dati ufficiali allora io un po' sono fortunato quindi cercherò di rispondere partendo dall'esperienza personale facendo una generalizzazione perché chiaramente facendo parte di un'associazione che opera a livello nazionale abbiamo contatti continui con altri comuni in cui le situazioni sono molto diverse parto dalla mia situazione io sono fortunato perché mentre diciamo una quindicina ventina d'anni fa ero io a rincorrere gli amministratori ogni volta che avevo un qualche nuovo dato non so venivo a sapere ad esempio che la settimana successiva si sarebbe discusso in consiglio comunale delle modifiche per ritornare un esempio che ho fatto prima al piano regolatore e mi chiedo una volta avuta questa informazione mi chiedo ho dei dati che possono essere utili a prendere decisioni a riguardo sicuramente sì e quindi per tornare al censimento visto che stiamo parlando di quello è una serie di caratteristiche degli edifici distribuiti nelle varie zone della città situazioni eventuali di disagio che sono più presenti in certe zone piuttosto che altre dovute a non so determinate limitazioni che riguardano il traffico o altre cose all'esistenza o no di zone metanizzate eccetera quindi abbiamo una serie di informazioni a disposizione a sapere dove cercarle chiaramente che fanno molto gola poi a un certo punto che cosa è successo si erano talmente abituati al fatto che io andassi andassi da loro portando delle informazioni ovviamente io sapevo già prima che potevano essere loro utili che a un certo punto è iniziato a capitare il contrario poi è iniziato a capitare un po' troppo nel senso che adesso mi chiamano in ogni momento sono contentissimo perché chiaramente non è solo il mio lavoro questo è una cosa che mi appassiona quindi insomma mi fa molto piacere però è successo questo quindi devo mettere io dei freni secondo me sta un po' in questo tipo di atteggiamenti bisogna tanto cercare di fare autopromozione degli uffici statistica cioè ognuno deve promuovere il lavoro che sta facendo facendo questo l'interesse si crea perché in realtà l'interesse c'è non è che non ci sia basta vedere quanto siamo affamati almeno fino a un po' di mesi fa adesso siamo satolli di informazioni che ci arrivano sui media per quanto riguarda il coronavirus ad esempio comunque continua a esserci una grande fame di dati c'è sempre stata e che semplicemente a certi dati non si sa che esistono poi quando si scopre questa cosa va avanti da sé ulteriore annotazione all'interno dei tavoli tecnici regionali secondo me ci potrebbe essere lo spazio visto la presenza anche di incaricati delegati di ANCI della regione dell'UP per immaginarsi un qualche tipo di attività da mettere ad esempio all'interno dei non so mille corsi di formazione che vengono fatti da queste associazioni nazionali dei comuni italiani e le altre come attività di formazione per amministratori sia cose molto specifiche sia cose generiche penso a nuovi amministratori a giovani amministratori per esempio ottimo Roberto grazie ho un'altra domanda veloce per te viene chiesta qualche informazione in più sull'ultima slide l'ultima tua slide che io adesso però non ricordo chiedono se puoi spiegare bene quali sono i dati rappresentati magari se la riprendi mia? sì tua la riprendo perché allora vediamo se la faccio questa? io immagino che sia questa? sì 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 è questa allora qui io non ho messo una lesenda perché di fatto erano dati vecchi qua mi interessava più che altro sollevare un problema più che commentare diciamo qualcosa diciamo che qui la leggenda farebbe vedere faceva vedere nella presentazione avevo fatto una conferenza non ricordo più quale che a seconda del dello spessore della riga della riga e del colore della riga questo mi andava a rappresentare una maggiore o minore intensità degli spostamenti da un comune all'altro se vedete se vedete il mio scusate la freccetta del mio mouse io spero di sì diciamo che il bozzolo quello centrale ha al suo centro Udine questa parte in basso a destra ha al suo centro Trieste qui c'è Gorizia cosa mi dicono queste cose qua c'è Pordenone cosa mi dice questo che i movimenti dall'esterno verso il grosso centro sono molto intensi e sono limitati sono limitati soprattutto a questa zona poi magari ce n'è anche qualche altro ma potete ben capire quante persone saranno che avranno deciso di andare ad abitare a Tarvisio che sta diciamo nell'angolino in alto a destra della regione ecco perché non sa dove si trovi che quotidianamente va a lavorare fino a Pordenone non sono molti infatti magari una riga anche ci sarà ma non è affatto evidenziata sono meglio evidenziate quelle dove l'intensità dei trasporti è più è più evidente sì grazie sono dati 2011 vero? sì 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 assolutamente sì sono dati sono dati 2011 allora benissimo adesso ci sono alcune domande generali a cui magari rispondo io alcune molto sintetiche viene chiesto se vengono diffuse le slide sì certamente e saranno inviate per email ai partecipanti per chi siete registrati e poi viene chiesto se ci sono notizie relative ai dati quando saranno diffusi i dati sulle abitazioni occupate non occupate allora sì sì di sicuro verranno diffusi questi dati però al momento non c'è ancora un calendario stabilito mentre nella relazione del di Saverio-Gazzelloni avete visto ci sono proprio dei calendari stabiliti per l'uscita di alcune informazioni per questi sull'abitazione ancora il calendario non è definito ma se state collegate ricollegate ogni tanto al sito dell'Istit poi social avrete sicuramente le notizie poi ci sono due domande le leggo che sono un pochino più tecniche le leggo per essere precisi i prossimi dati censuari 2020 e 2021 ci diranno qualcosa sull'emergenza sanitaria e l'impatto del covid sulla struttura per età della popolazione e questa è una domanda piuttosto interessante allora la risposta è sì certamente ci diranno qualcosa perché proprio l'impianto complessivo del censimento permanente di popolazione ci consente ogni anno ogni anno non più ogni dieci anni di avere un calcolo di popolazione censuaria per età a livello comunale e nella base se voi consultate oggi la base censuaria pubblicata quella ai link che vi sono mostrate che poi io vi mostrerò trovate al momento solamente classi di età quinquennale però se andate nel sito demo.istat.it voi trovate a livello comunale la popolazione per singolo anno di età perché vi sto dicendo questo perché grazie alla rivoluzione censuaria che c'è stata in questi anni che è stata molto complessa e che è tuttora in corso noi riusciamo a ottenere dei dati sincronizzati tra il sito demo.istat.it che presenta la popolazione che tradizionalmente noi immaginavamo di natura demografica ma in realtà proviene anche in questo caso proprio per la rivoluzione complessiva del censimento da un'integrazione di fonti e di elaborazioni molto particolari vi dicevo il sito demo quello classicamente dedicato alle statistiche demografiche contiene una popolazione che è sincronizzata e coerente ogni anno con la popolazione censuaria credete che questo non è da sottovalutare perché in passato noi avevamo sempre la popolazione censuaria ogni dieci anni e poi bisognava fare le ricostruzioni e poi bisognava raccordarsi con tutte le stime di fonte demografica e così via questa cosa non succederà più perché da adesso in poi le stime i valori di popolazione sono coerenti e diffusi in dettaglio ogni anno quindi insomma un bel passo avanti è stato fatto poi un'altra domanda che in qualche modo è collegata a questa ve la leggo è come fa l'Istat a proporre numeri precisi di popolazione per ciascun comune in ogni anno considerando che non si tratta di un censimento completo non è più così infatti ma che ogni anno si intervista solo un campione della popolazione dei comuni questo è perché il censimento permanente è una macchina molto complessa e una delle sue componenti che è la parte di rilevazione sul campo che tradizionalmente viene svolta nell'autunno verso nella parte finale dell'anno quello che prima era il censimento il censimento con l'articolo che lo comprendeva tutto ed era solo parte di lavoro sul campo più tutta una serie di validazioni e trattamento dati successivi non c'è più la parte di lavoro sul campo è una delle componenti di una macchina complessa che elabora e tratta un insieme di fonti anche di fonti amministrative molto numerose pensate che l'analisi delle fonti amministrative per trattare produrre le stime di popolazione ne comprende più di 50 ora il numero preciso non lo ricordo forse 54 ma più di 50 quindi è grazie a tutta questa macchina che comprende anche una componente di lavoro sul campo che si ottengono i valori di popolazione quindi tutta questa macchina è in grado di produrre dei valori di popolazione solidi dal punto di vista statistico anche negli anni per i comuni che in determinata occasione non partecipano alla componente di rilevazione censuale scusa di rilevazione sul campo quella che va con i rilevatori o con le rilevazioni via web sul campo questa struttura è quella che grazie a Dio ci consente di produrre delle stime anche per il 2020 perché come è stato detto nel 2020 l'emergenza sanitaria ci ha messo tutti in grave difficoltà non è stato possibile compiere la rilevazione censuaria sul campo la componente proprio attiva di rilevazione diretta e ciò nonostante pur con tante difficoltà metodologiche organizzative saranno possibili pubblicare dati di popolazione anche per il 2020 proprio grazie a questa struttura che sfrutta al massimo spreme al massimo tutte le potenzialità informative di archivi amministrativi esistenti vediamo se ci sono altre domande con i tempi siamo perfetti manca un minuto la chiusura e allora io sapete a chi lo dedico questo minuto come si fa sempre ma come mi sento proprio di fare lo dedico a ringraziare e voglio ringraziare proprio intanto i relatori vi ringrazio molto che hanno rispettato i tempi hanno fatto tutto splendidamente ma insomma ringrazio anche tutti i partecipanti vi ringrazio delle domande del fatto che siete qui insomma siete numerosi siamo partiti in 83 siamo arrivati al 63 che non è un cattivo risultato sapete considerando la materia e l'orario direi che abbiamo fatto bene vi ringrazio molto vi ringrazio anche davvero adesso al di là delle cose della chiusura un po' spettante ringrazio sinceramente tutti i collaboratori con cui lavoriamo tutti i giorni perché altrimenti noi non potremmo proprio farli citati né diffonderli né commentare insieme bene possiamo saltarci no mi manca di ringraziare la regia perché voi non la vedete ma dietro noi abbiamo due persone molto in gamba che hanno lavorato perché filasse tutto liscio e sapete che quando fila tutto liscio vuol dire che dietro c'è qualcuno che l'ha tanto